Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video qui sul canale oggi vi voglio portare quello che è stato il recap della VL di questa settimana nonostante appunto arrivi in ritardo perché è stata prolungata come sapete fino a martedì mattina alle 8 ma sono riuscito a concludere con un ottimo risultato top 100 portata a casa, posizione numero 65 in the world epic! tra l'altro un punteggio di abilità veramente alto, 2391 infatti se guardate il matchmaking insomma ho avuto a che fare con tutti gli avversari tosti che alla fine hanno concluso in ottime posizioni l'unica sconfitta è arrivata contro Trigga, il pro player del Bogum una partita che nonostante il risultato è stata molto combattuta di fatto ho preso gli ultimi due gol negli ultimi due minuti quando ero tutti avanti e ricordo benissimo un controllo sbagliato di De Jong sull'1-1 che gli ha aperto la strada poi al 2-1 al settantesimo e quando prendi il 2-1 al settantesimo contro un pro in WL su partita secca GG insomma a rivederla poi come potete vedere insomma la media degli avversari è stata molto alta guardate quanti Elite 2, quanti Elite 3, qualche Elite 1 insomma devo dire la verità è stata una weekend league tosta dal punto di vista del matchmaking ma volevo andare a condividere con voi quella che è la squadra che ho utilizzato ovviamente chi mi segue su Twitch ormai la conosce da tempo e quali sono le tattiche e le istruzioni che mi hanno permesso di poter acquisire questo risultato la squadra in questione è questa qui tra i pali Ter Stegen che insomma non credo abbia bisogno di presentazioni ormai sono arrivato a fare 400 partite con lui e il portiere che quest'anno mi ha dato più sicurezza durante il corso della stagione terzino sinistro troviamo il buon Mendy Futmas anche lui veramente tanta tanta roba io credo il terzino finistro non ha icon più forte del gioco a mani basse almeno per quanto riguarda il mio stile 538 partite, 2 gol, 15 assist volevo controllare il passaggio esatto perché questo ha un ottimo passaggio corto e anche un ottimo passaggio lungo quindi serve bene anche ai compagni e tanta tanta roba il buon Mendy poi abbiamo Varan Headliners che ho acquistato a metà scorsa weekend league e è andato a sostituire il precedente Varan base che avevo col quale avevo fatto una caterva di partite e vi devo dire la verità io questo Varan lo sto amando è veramente uno dei difensori più forti che io abbia provato quest'anno è perfetto per il mio stile di gioco che è uno stile di gioco con una difesa molto manuale, molto aggressiva è una carta che con L2, ossia quando cercate di temporeggiare scivola in una maniera incredibile è molto prepotente fisicamente anche quando poi andate a fare i contrasti quindi tanta roba è stata veramente una piacevole scoperta questo Varan Headliners nonostante fossi un po' spaventato dal prezzo alla fine avevo quei crediti in più ho detto ma proviamolo e devo dire che non me ne sono pentito un'altra carta che mi ha sorpreso veramente tanto è il buon Diego Carlos perché al suo posto avevo Militao che ho venduto poi per fare degli upgrade in altri reparti e avevo lui nel club al quale non avevo mai dato una chance ma Diego Carlos 104 partite fa e non è un caso è entrato a far parte della Rosa e credo che difficilmente se ne andrà perché stesso discorso di Varan oltre a essere molto simile comunque a Militao questo qui con l'L2 scivola che è una bellezza veramente bene fa anche bei interventi automatici è prepotentissimo a livello fisico oltre ad essere super aggressivo e veramente mi ci sto trovando tanto bene poi non perde un contrasto neanche se lo pagate piuttosto ci lascia la vita lui sui contrasti è veramente tanta roba tanta tanta roba terzino destro quello che forse per voi sembrerà una sorpresa ma abbiamo il buon Sergio Ramos che ho sbloccato ormai da un po' ci ho fatto 154 partite e tutti quanti mi dicono Riberovski ma come mai non lo usi difensore centrale raga sto Ramos usato terzino ne sa una cifra perché è super fisico velocità certo non sarà veloce come dice sulla carta ok ma quello non è tanto un discorso legato alla velocità ma legato al fatto che comunque è un cristone di 1.84 c'è un body type particolare quindi non risulta essere scattante come dice sulla carta ma questo raga fisicamente non lascia passare nulla nulla oltre che c'è delle statistiche poi pazzesche a livello difensivo sui contrasti è super prepotente ha un ottimo passaggio e come avete capito per me è fondamentale poi vi spiegherò dopo quando parlerò degli esterni perché è fondamentale e quindi sto Sergio Ramos piuttosto che switcharlo difensore centrale io da terzino lo uso e mi ci trovo un gran bene andando poi ad analizzare la squadra diciamo con il modulo che uso in game prima e dopo vi farò vedere tattiche di istruzioni che è il 4-4-2 vi vado a far vedere il buon Kantettotti anche lui una gran sorpresa vi devo dire la verità perché io non sono mai andato d'accordissimo con i giocatori che in mezzo al campo fossero Bassini e Brevilini quindi uno come Kanté insomma 1-68 sicuramente sposa questo identikit alla perfezione ma quest'anno è veramente veramente determinante Kanté infatti guardate 142 partite 10 gol 71 assist insomma è veramente tanta roba e questo perché? perché oltre a essere un fulmine di guerra in mezzo al campo e ritrovarsi in tutte le posizioni in fase difensiva e non solo ha 99 di passaggio corto e 99 di passaggio lungo in un gioco dove non bisogna assolutamente andare a sprecare alcun possesso palla io trovo che sia una caratteristica troppo troppo importante per non parlare ragazzi di 96 di agilità 99 di equilibrio 99 di reattività e 99 di freddezza che lo rendono insomma veramente una mina vagante con la quale poter anche imbucare le punte infatti avete visto 71 assist non mentono e questo Kanté rispetto alle versioni precedenti è anche in grado di poter incidere in fase offensiva tant'è vero che c'è 88 finalizzazione 96 potenza tiro addirittura 85 di tiro dalla distanza quindi questo Kanté è veramente super consigliato poi su xbox è anche sceso di prezzo credo sia sotto il milione controlliamo ma dovrebbe essere così no forse è risalito attenzione ci ho fatto profits si è risalito però veramente tanta tanta roba consigliato a fare reparto con lui troviamo il buon Frankie dei Yongo Toti questo veramente è stato una piacevole scoperta ma si sapeva che la carta Toti di sto giocatore sarebbe stata pazzesca visto anche il rendimento già del base dell'IF il one to watch è quanto è quanto segue 420 partite 34 gol e 116 assist e beh che dire questo per lo stesso discorso di Kanté in fase difensiva è tanta tanta roba super agile scivola con l'L2 recupera palloni si fa sentire fisicamente e in più è un architetto del centrocampo con 99 di passaggio corto 99 di lungo insomma anche lui ti permette di poter veramente acquisire superiorità in America in mezzo al campo che fa la differenza quest'anno passando ai due esterni abbiamo esterno sinistro il buon Manettoti che ormai anche lui ho da un po' 134 partite 36 gol 64 assist 4-4 questo qui è un fulmine di guerra un fulmine di guerra perché a parte che secondo me non costa tanto cioè un milione e 7 per una carta del genere li spendo volentieri velocità che gli vuoi dire finalizzazione 99 potenza tiro 96 infatti avete visto che comunque anche in fase offensiva mi va a finalizzare abbastanza buoni passaggi agilità 99 equilibrio 94 le attività 99 quindi lo rendono anche super agile ma la cosa che più mi piace di questo Manett è lo scatto bruciante che ha nel lasciare sul posto gli avversari quando vado a rallentare e poi all'improvviso scappo gli da due metri in partenza all'avversario e questo è veramente è veramente un fattore determinante perché ti permette poi soprattutto per il mio tipo di gioco di rientrarmene servire il terzino che sta arrivando andare verso il centro e poi cercare le due punte quindi questo Manett si sposa alla perfezione col mio gioco esterno a destra abbiamo il Montmessi Peak si non mi ha iterate 784 partite 515 gol 300 assist per lui c'è da dire che l'ho usato però a lungo da punta quindi le statistiche sono anche un po' figlio di questo ma questo piazzato sull'esterno fa veramente il bello e il cattivo tempo stesso discorso di Manett questo qui quando voi scattate lasciando sul posto gli avversari gli da in partenza un paio di metri e a questo poi ci va ad abbinare un ottimo passaggio che quindi è sintomo di creare occasioni a vostro favore e oltre ad avere un ottimo tiro a giro che può sempre risolvervi le partite insomma io questo ve lo straconsiglio e si sente la differenza con col Messi base perché questo qui è un pelino più agile e anche un pelino più clinical sotto sotto porta passiamo ai due pezzi da 90 della squadra ossia il buon Sir Kenny Dalglish che vabbè insomma non ha più bisogno di presentazioni mio figlio il giocatore che più ha amato quest'anno dal giorno 1 215 partite 189 con 148 assist una carta di un'agilità fuori dal comune e sfatiamo un mito perché tutti quanti mi chiedete quale Dalglish sia il più forte il prime eccetera eccetera magari ci farò un video al riguardo ma secondo me visto il body type unico che ha proprio il baby è il più forte ed è super super clinical sotto porta anche col tiro a giro tiro di potenza super agile fai drag back in una maniera pazzesca io questo lo amo alla follia rimarrà nella squadra penso fino alla fine dei tempi salvo poi arrivare all'ultimo innesto in ordine di tempo arrivato nella squadra sia Butraghenio Moments che questo ragazzi chapeau Butraghenio Moments 185 partite 295 goal 107 assist senza contare tornei amichevoli che non appaiono nelle statistiche ma che ha carriato in una maniera epica e voi direte cazzo ma tre mosse abilità non sono un problema no non sono assolutamente un problema perché insomma se avete uno stile di gioco improntato sul possesso palla che vi porta ad entrare in porta agli avversari questo qui voi date palla in aria vi girate destro col sinistro vi tirate le mine in porta è veramente un cecchino dell'area dell'area di rigore finalizzazione 98 potenza tiro 91 agilità 93 equilibrio 93 reattività 93 è pazzesco questo è veramente super consigliato tra l'altro io l'ho pagato 2 milioni e 7 questo secondo me è sceso un pochino 2 milioni e 2 si ci ho perso un 500k ma ce li perdo tutta vita volentieri perché questo qui è veramente un fenomeno andiamo a vedere invece le tattiche e le istruzioni che io utilizzo per il 4-4-2 ragazzi tattiche molto basiche utilizzo equilibrata 5-4 equilibrata 5-4 2-2 per evitare di prendere contropiedi che comunque prendo perché sono scemo su calcio d'angolo e quindi una manovra che vi gestite voi senza senza sovrastrutture vedete voi insomma come voler impostare il vostro gioco avendo equilibrata e equilibrata per quanto riguarda il modulo vi ho detto il 4-4-2 quello con i cc che preferisco al cdc per avere un po' di supporto e manovra offensiva anche dai centrocampisti come avete visto infatti Kant e De Jong partecipano attivamente anche alla fase offensiva per quanto riguarda le istruzioni possiamo dire che sono un po' le tipiche almeno fino al centrocampo perché abbiamo resta dietro in attacco ai terzini resta dietro e copre al centro per i due mediani agli esterni io non metto nulla perché non voglio che gli esterni facciano movimenti automatici preferisco lanciarli io magari farli scattare con l'L1 farmi venire in contro prendendo l'R1 e quindi li lascio assolutamente basici per quanto riguarda le due punte invece utilizzo su Butraghenio fa salire la squadra in maniera tale che mi venga un po' più fuori aria a prendere palla e magari appunto poi servire Dalgrish sia per farlo concludere sia per magari chiudere un 1-2 e andarsene lui in porta e a Dalgrish invece ho inserisciti alle spalle che è quella che è l'istruzione tra virgolette tipica che si mette agli attaccanti e devo dire la verità che queste sono le tattiche che ho utilizzato da inizio anno mi ci sono trovato sempre sempre un gran bene quindi io ve le consiglio e soprattutto se avete uno stile di gioco un po' come il mio basato sul possesso palla secondo me possono fare al caso vostro quindi raga io vi saluto vi ringrazio per la visione di questo video vi aspetto ovviamente ogni giorno in live su Twitch dalle 12 e credo che a sto punto vi porterò anche l'estratto per quanto riguarda i premi della della top 100 fatemi sapere come è andata la vostra WL fatemi sapere se proverete queste tattiche io vi saluto e vi ringrazio bis